guardate la bellezza di questa zona del lago Trasimeno poco frequentata dai turisti che andrebbe assolutamente ripristinata e sarebbe sicuramente una zona piena di attrattive ricordiamoci che l'acqua è tra le più pulite d'Italia il lago è balneabilissimo guardate che meraviglia dietro di me c'è un albergo un centro sportivo è una zona residenziale praticamente in disarmo quella sullo sfondo è Castiglion del Lago un chilometro poco più collegato ad una pista ciclabile e guardate la meraviglia di questo posto una lacura ancora incontaminata selvaggia si può dire dove trascorrere un po di tempo in totale relax farsi un bagno in tutta tranquillità lontani dalla zona più turistica del lago Trasimeno dalla parte opposta alla zona di Magione troviamo lidi stabilimenti balneari folla caos qui siamo veramente al paradiso per chiama la solitudine come sottoscritto grazie! grazie!